Musica Domenica 19 marzo, San Giuseppe, è il 78esimo giorno dall'inizio dell'anno e mancano 287 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 15, tramonta le 18 e 22. La luna si leva a mezzanotte e 18, tramonta le 10 e 44. A Venezia, verso le ore 5 e mezzo di sera, un vaporino proveniente dal Lido con 60 passeggeri a bordo, giunto all'altezza del canale degli orfani, viene investito dalla torpediniere 56T e con la picco in pochi istanti. La sollecida opera di soccorso permise di salvare un gran numero di persone, nonostante il rapido affondamento che provocò una ventina di vittime. Le previsioni per domani. Parziale nuvolosità alternata schiarite. In pianura fino al primo mattino, probabili foschie o nebbie. Precipitazioni assenti. Temperature in contenuto aumento. Precipitazioni assenti. Temperature in grillate. Precipitazioni assenti. Temperature un